E' un Delfino flaccoporto decimato dalle assenze. Quello che si presenta all'Angelini, squalificati Alberico e Giannini, l'ex di turno. Saltarin, Comparelli e Dincecco fuori, Iazzec, Ligoschi non ha i 90 minuti e parte dalla panchina come Silvestri. Alessandro Lucarelli deve rinunciare a Di Marco, Pacella e al Pachito Morales per squalifica, oltre all'influenzato di Lallo, centrocampo da reinventare. Tutti dentro, Rodia, Miciche, Delgado e Toro, targa celebrativa consegnata prima dell'incontro dal presidente del Chieti di Giovanni a Emanuele Cavallucci, campione nazionale dei pesi Welter di Pugilato, avvio di partita con il Delfino Arrembante, perde palla il Chieti. Lirim Curri non ci pensa su due volte, è un missile sul quale si oppone Francesco Alonzi, prima mezz'ora a tinte, chiaramente bianca-azzurre, ma quando risponde il Chieti può essere letale, Stefano Miciche fa tremare la traversa, prende coraggio l'undici nero-verde, un destino nel nome, Toro scatenato, si mette in proprio, giochi di prestigio, fa sparire il pallone che riappare solo quando Salvatore Falso deve intervenire per sventare il pericolo. Si scaldano gli animi per un mancato intervento disciplinare di Jannella, Ricci che stende Lirim Curri di fronte a Guglielmo Bonati all'altezza del centrocampo nella ripresa, calcio di punizione per il Chieti, soluzione ideale sia per il mancino di Delgado che per il destro di Miciche, ma va proprio quest'ultimo la battuta a scrostare anche l'altra traversa, sfortunatissimo Stefano Miciche, brivido che corre lungo la schiena di Falso, entra Jacek Ligotsky, spinge il Chieti a destra, Sebastiano Ronzino per David Toro, provvidenziale falso, Marzucco su calcio piazzato, costringe il corner Alonzi, quindi Chieti all'assalto, classico movimento ad accentrarsi di Francis Delgado, taglia per Rodia, con intelligenza deve soffiare falso, a un centimetro dal vantaggio di Atini, ma pari, utilissimo per entrambe, Serie D, a un passo per il Chieti, Bonati assapora la salvezza diretta, Chieti 0, Delfino Flacco Porto 0. Bonati, partita praticamente perfetta, sotto l'aspetto tattico davvero complimenti, quanto è vicina la salvezza? Ma non ho visto bene i risultati perché in questo momento stavo godendo della squadra di questa prestazione e del risultato conseguente che è venuto, sicuramente avendo fatto punti più, spero che sia più vicino perché nell'ultima settimana vincendo era più lontana, quindi speriamo che adesso facendo solo un punto magari più vicino. Grazie per i complimenti, li girerò alla squadra. Purtroppo abbiamo invertito quello che normalmente è un campionato che devi vincere, cioè non riesci a vincere in casa e vai a vincere fuori casa. È un peccato anche per chi viene a vedere le partite perché mi dispiace, oggi l'obiettivo era cercare di vincere senza rischiare. Poi sono arrivate le notizie che la Torrese perdeva e quindi in campo arrivano purtroppo queste notizie che un po' deconcentrano e i ragazzi comunque ci hanno provato a vincere. Però il rammarico è che non sei mai in controllo della partita totale e quindi metti sempre a rischio una partita che secondo me ha dei valori diversi. Però poi su questo campo i valori ormai ci siamo fatti un po' le ossa e quindi accettiamo e sicuramente mettiamo un altro tassello e bisogna stare ancora calmi e concentrati perché insomma i campionati si vincono anche così con un passetto alla volta perché è vero che noi domenica vincendo ma anche perdendo e pareggiando potremmo vincere il campionato. È chiaro che noi andiamo per vincere però in questo momento siamo messi in una condizione che possiamo, non dico stare tranquilli, però preparare bene questa partita e cercare di chiuderla domenica se riusciamo.